L'importanza svolta dalle donne nel dare avvio alla rivoluzione russa del 1917 prevede il racconto di 10 storie, di 10 rivoluzionarie. Quindi vuole appunto ricordare l'importanza della presenza femminile nella vita politica e la loro azione che invece viene spesso minimizzata come partecipazione semplicemente a seguito di un compagno, di un fratello e non come scelta volontaria e personale o che viene del tutto oscurata. Infatti già lì della mia pace ci aveva ricordato quello che era avvenuto ad esempio durante la resistenza quando alle partigiane venne consigliato di partecipare alla manifestazione della venuta liberazione. Oggi siamo qui invece per ricordare nuove storie di resistenza e come dice appunto anche il titolo storie di rivoluzionarie, storie di 10 donne che dagli anni 70, quelli che vengono chiamati gli anni di piombo, ad oggi, infatti l'ultima storia degli anni 2000, vedono appunto queste donne prendere le armi, prendere parte alla rivoluzione in nome di un'idea. E l'autrice Paola Staccioli ha deciso di raccontare queste storie per dare una nuova, un'immagine più umana, più completa di queste donne che spesso vengono solamente, che sono state spesso definite dalle cronache, semplicemente con il titolo di terroriste, senza indagare anche sulle loro motivazioni. Al contrario, Paola Staccioli ha raccolto informazioni da giornali, da documenti politici, atti giudiziari e soprattutto anche intervistando loro familiari e compagni di lotta, dando quindi un'immagine più completa, più umana di queste donne e presentando le loro storie, dice Paola Staccioli, come storie di un amore. Amore per un'idea, amore per la libertà, infatti loro portavano contro uno Stato opprimente e contro un'impostazione sempre più capitalista e amore per la rivoluzione. Quindi seguirà poi l'intervento di Silvia Barazzini, che ci racconterà invece la sua esperienza personale negli Stati Uniti a fianco del movimento di liberazione degli afro-americani e anche la presentazione sarà intervallata da delle performance, se così possiamo chiamarle, dall'attrice Belen Duarte, che darà voce a delle poesie che riguardano proprio le protagoniste di queste dici storie. Lascio quindi la parola a Belen Duarte. La parola a Belen Duarte Dormi, sorella, su queste barricate, perché uomini e donne intoneranno ancora la lotta e la canzone. Dormi tra le rosse e il pane, noi cammineremo a puni inchiusi come il tuo cuore. Grazie. 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 Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Dico il titolo. Dale Zaccaria nel suo amore. Buonasera. Buonasera a tutte e tutti. Grazie per essere qui e grazie a Titia, ai compagni e compagni del Circolo Grammici, che ci hanno permesso di venire qui a Corato. E appunto noi sono sorridente perché non mi aspettavo questa performance. Noi in genere abbiamo queste tre poesie che diamo da leggere, di compagni, che organizzano, però vengono a lette in modo, a volte gingio, a volte… però insomma qui invece c'è un'interpretazione che appunto mi ha positivamente sorpreso. Sebbene che siamo donne, l'ho già accennato, Antonella è un libro che parla di storia attraverso le storie, attraverso le vite di dieci militanti politiche dall'inizio degli anni 70 fino a tempi più recenti, hanno scelto di impugnare le armi o comunque effettuare azioni illegali nell'ambito delle diverse organizzazioni o aree della sinistra rivoluzionaria. in questa settimana, poi siamo alla settimana dell'8 marzo, abbiamo iniziato questo, chiamiamolo, tour pugliese e mi fa piacere comunque che Antonella abbia ricordato, altrimenti avrebbe comunque fatto Silvia e probabilmente lo farà, le origini di lotta dell'8 marzo. e perché anche queste, come tanti altri aspetti della storia, vengono in buona parte rimossi, deformati. e è successo appunto alle origini dell'8 marzo, ma è successo anche alle storie di cui parliamo in questo libro. Le dieci vite delle donne, come insomma vite simili e percorsi simili, fanno parte di quella storia che viene spesso appunto dimenticata, rimossa dalla memoria collettiva o comunque distorta. Noi ne raccontiamo oggi le loro vite anche tramite appunto testimonianze, tramite poesie, tramite video e immagini in parte inedite. per ricordare appunto queste storie che fanno parte di quei percorsi e che sicuramente sono complessi, delicati, affrontano temi particolari che sono appunto i temi della violenza politica e della lotta armata. in questa prima parte della presentazione, dico prima parte perché noi sempre speriamo che poi ce ne sia una seconda che da parte vostra, cioè da parte delle domande, degli interventi, delle riflessioni, perché questo è anche un obiettivo di questo nostro giro che stiamo facendo in Italia. In questa prima parte noi diamo prevalentemente voce alle dieci compagne del libro, diamo voce alle organizzazioni o alle in cui queste donne hanno militato. Dare la voce non significa condividere tutte le loro scelte, dei percorsi in parte anche diversi fra di loro. Significa però volersi distaccare dal coro di chi appunto affronta tutto questo soltanto a suoni scomuniche e dietre, come diceva lei prima, le donne terroriste. Le loro scelte fanno parte di un nostro passato recente, fanno parte di un passato che a nostro avviso va analizzato, bisogna riflettere, discutere, escono tanti libri e continuano a uscire libri su quegli anni che però molto spesso non aiutano la chiarezza ma al contrario aumentano poi queste dietrologie che non aiutano invece a capire. Noi riteniamo che riflettere su quegli anni debba essere fatto e possa anche poi essere utile per capire quali sono i compiti, gli obiettivi dell'oggi. A proposito degli obiettivi, uno degli obiettivi di questo libro è quello di comunicare attraverso il racconto, la narrazione di alcune vite che queste storie fanno parte della nostra storia, della storia di chi lotta per l'emancipazione, la giustizia sociale, di chi lotta per una società senza più classi e senza sfruttamento. E a questa lotta le donne di cui parliamo nel libro hanno dato un valore, un'importanza così elevata per arrivare a mettere in gioco, a rischiare la propria vita e poi a perderla. Le dieci storie infatti sono accomunate poi da una morte strettamente collegata alla scelta e alla militanza politica. Alcune donne sono morte durante azioni, altre uccise, le ultime due morte e suicide in carcere o agli arresti domiciliari. Dieci storie italiane, ma il libro, come sappiamo, ha anche un'undicesima storia, che è una storia americana, che ascoltiamo direttamente questa sera dalla voce e dalle parole della sua protagonista, Silvia Baradinei. Grazie. Voglio solo aggiungere una parola sulla questione dell'8 marzo, perché c'è anche un altro aspetto che l'8 marzo voleva ricordare, era l'aspetto delle donne lavoratrici negli Stati Uniti che lottavano per ottenere il giorno lavorativo di 8-8 anni, per eliminare la presenza dei bambini all'interno delle filande, perché non so se ve lo ricordate, i bambini avevano le dita molto flessibili e perciò potevano meglio far funzionare queste macchine, raccogliere il filo che veniva da queste macchine. Ci sono stati un numero di scioperi molto molto importanti di queste donne lavoratrici e la cosa interessante di questo scioperi sono stati che il sindacato ufficiale non le ha volute rappresentare. Perché non le ha volute rappresentare? Perché erano donne prima di tutto, ma anche perché venivano da così tanti differenti paesi europei che non avevano una lingua in comune. E il sindacato ufficiale, la valutazione è stata che sarebbe stato quasi impossibile costruire solidarietà tra queste donne perché mancava una lingua in comune. Invece queste donne sono riuscite assolutamente a farlo con l'assistenza del sindacato degli anarchici negli Stati Uniti che qualcuno conosce e che si chiama International Workers of the World, che già lì, perché non era un sindacato che si considerava solo americano, era un sindacato che si considerava dei lavoratori e lavoratrici di tutto il mondo. Questa è per dire sull'8 marzo. Comunque, chiaramente il libro è tutto concentrato sull'Italia e quello che io racconto non ha a che fare con l'Italia solo nel fatto che io sono italiana, ma quello che racconto è avvenuto negli Stati Uniti. Allora, perché mettere o iniziare a scrivere delle mie esperienze all'interno di questo libro? Prima di tutto perché mi sembrava importante spiegare che negli anni 70, in un momento in cui sembrava veramente che il mondo potesse cambiare, in ogni continente c'erano lotte, guerre anche di liberazioni, anticoloniali per il socialismo, che anche all'interno degli Stati Uniti si è sviluppato un movimento che aveva, dei movimenti anzi perché non è stato uno, dei movimenti che avevano come obiettivo un cambiamento fondamentale proprio degli Stati Uniti stessi, perché eravamo molto consapevoli all'interno di quegli anni negli Stati Uniti del ruolo che negli Stati Uniti avevano nel mondo e sentivamo questa responsabilità in modo abbastanza pesante. Perciò questo era un aspetto, anche perché a volte quando si parla di certi anni in Italia si pensa che l'esperienza che è avvenuta in Italia è talmente particolare che è stato l'unico paese in cui certe cose si sono sviluppate, invece secondo me bisogna vedere quello che è accaduto in Italia in un contesto di un periodo in cui in tutto il mondo si lottava per cambiare le cose, non per riformare le cose ma per cambiare le cose in senso rivoluzionario e anche appunto come ho detto negli Stati Uniti ha avvenuto questo. La seconda questione che mi ha spinto a scrivere è che spesso quando ho iniziato a girare e a parlare, perché la gente mi ha chiesto c'è stata una campagna per riportarmi in Italia e la gente era curiosa di come avevo vissuto questa campagna e tutto questo, mi sono accorta che molte persone pensavano che io fossi finita in carcere con una connanna di 44 anni pur essendo completamente innocente e questa cosa non è vera e allora mi premeva, iniziando a scrivere appunto le mie riflessioni, di chiarire anche questa cosa, mi preme chiarire questa cosa perché in qualche cosa dire che io sono finita in carcere perché pur in essendo innocente sminuisce un certo percorso politico che io ho fatto, che mi ha portato a prendere delle decisioni che erano assolutamente politiche e non l'ho fatto in isolamento, l'ho fatto con gruppi e movimenti di persone e allora chiarire anche quella questione mi sembrava a me importante politicamente. La terza cosa che vorrei menzionare è che Paola e io usiamo un po' la presentazione del libro per sollevare due questioni che ci stanno molto a cuore, una è la questione del 41 bis, come sapete ci sono persone in Italia che sotto il 41 bis che è un regime speciale di tortura bianca, un regime il cui obiettivo secondo me ha molto a che fare è una distruzione della personalità delle persone e ci sono, recentemente l'ottobre scorso il governo ha aggravato le condizioni del 41 bis, adesso non possono più neanche ricevere i libri dall'esterno, perciò se vi interessa questa cosa c'è una pagina, c'è una pagina che c'è su internet che si chiama Pagine contro la tortura che fa parte di questa campagna per rincontrare i libri per le persone che hanno il 41 bis ma in generale contro il 41 bis. La questione del 41 bis è una questione che noi a volte troviamo molto sofferta perché molte persone sono convinte che il 41 bis è necessario e veramente noi vogliamo proporre una visione differente, che in un paese democratico un regime di tortura anche se solo tortura bianca non dovrebbe essere quello erato a esistere. La seconda cosa che volevamo, usiamo ogni volta che parliamo del libro ricordare alla gente è che ci sono ancora in carcere persone che risalgono almeno agli anni 80, persone che sono state coinvolte nei movimenti rivoluzionari di cui il libro parla e queste persone sono diventate ostaggio del governo italiano perché il governo italiano chiede a loro in qualche modo di dissociarsi, di firmare delle lettere per poter uscire e queste persone non lo fanno e secondo noi questa cosa non è tollerabile che dopo aver passato più di 30 anni in carcere devono ancora anche firmare una lettera e vogliamo in qualche modo ricordare che ci sono degli effetti che provengono dalle lotte di quegli anni che devono essere ancora risolte e che possono essere solo risolti politicamente perché ormai le parti si sono definite, il governo vuole certe cose e loro non le vogliono fare, perciò ci deve essere un qualcosa di differente che permetta a queste persone dopo 30 anni di carcere di uscire e di uscire con il loro punto di rivista intanto. Grazie. Elenangelo La prima volta ho osservato con attenzione il compagno italiano a montare il meccanismo di un'ora di lavoro e tutto sembra a posto, accende il motore e si avvia anche i terzi di stasi, spegne le recenze, nulla da fare, tra i due uomini non c'è altro, a non voler rinunciare l'azione è proprio lui il cipiota che deve guidare l'altro, lo sguardo va verso la cosa, sembra non avere certezze all'angelo, nonostante il rischio, nonostante il cuorso riparato in tutta fretta, troppo tardi per abbandonare, due sì e un no. L'abbraccio con il compagno greco e con un osso, osserva la vita italiana, la sfondatura elegante, alta, flanciata, capelli rosso tiziano, Elena si porta, i suoi occhi verdi brillano al sole. Le libri, datemi a mio figlio, le ultime parole prima di salire sull'auto trasformate per un ordine di giustizia, di libertà, la libertà del popolo greco dai colonnelli guidati da Papadopoulos, la libertà di un paese trasformato dall'aprile 67 in una grande prigione. Giorgos va al posto di guida e trattito e breve, un chilometro più o meno, deve lasciare il baggiolino ai limiti del parcheggio. Durante la notte il timer accenderà l'auto facendola arrivare fino al reddito della fasciata degli Stati Uniti. A quel punto il fergiquistallo attiverà il detonatore. Elena è seduta a fianco all'Ugui, 31 anni, il figlio che ne ha quasi nove, è impiegata alla Mondadori a Milano dal 68 dopo la separazione per quella degli studenti greci, è iscritta al Partito Comunista. Il compagno greco milita nella squadra Aris del fronte patriottico antivittatoriale legato al Partito Comunista per l'interno. La scelta è caduta su una fasciata americana perché la zona di notte è deserta e per il significato simbolico. Gli Stati Uniti, il cervello della dittatura militare. L'azione non deve causare le istime. Alcuni compagni all'estero hanno mangiato, un anziano militante del PC si è dato da fare per i passaporti. Ogni metro che l'auto si lascia alle spalle, la strada sembra espandersi verso un orizzonte sempre più sfumato. Una fiammata, un voado e in una grande nuvola di fumo nero volano via le vite di Elena e Giorgos. È il 2 settembre 1970. Nella persona di Elena Angeloni, il nostro popolo vede l'amore e la solidarietà del fratello popolo italiano. Il suo eroico sacrificio, analogo a quello di migliaia di partigiani italiani caduti combattendo della resistenza greca e rinsalda ancora più i vincoli militanti che uniscono i nostri popoli. Nikis e Dorakis. Il 18 settembre a Milano i funerali di Elena, bandiere rosse e pugni alzati. Per la resistenza greca c'è Melina Mercuni, ci sono i compagni, gli amici militanti del PC. A titolo individuale, il partito non c'è. Il partito prende le distanze, anche se ufficialmente sostiene la resistenza. Il segretario della sezione 25 aprile viene costretto dalla federazione a strattare la matrice della tessera di Elena, a cancellare ogni traccia della sua militanza del PC. La dittatura in Gracia viene scompita nel 74, i giornali italiani si trovano di Elena nel 2001, sono stati di Genova, con un suo nipone finito alla riparta della cronaca. Nato nel 78, non ho mai conosciuto Elena, ma un filo di allegato, il comune desiderio di giustizia e di libertà. Il nome di suo nipone è nel cuore di tutti noi, capo Giuliani. Margherita Cadone. Oggi è caduta combattendo Margherita Cadone Mara, dirigente comunista e membro del Comitato Esercizio delle Brigate Rosse. È il 5 giugno 75, la notizia sconvolge gli ambienti piccoli borghesi trentini. La reazione intelligente, di buona famiglia e di santi principi cattolici che hanno vista. La giovane che aveva sci, tennis, che aveva classica. Cosa le mancava, si domandano il paese. L'hanno fatto per amore. E quella testa calda di Renato Curcio, l'uomo di Margherita, non è uno qualunico. I conti tornano. Insieme hanno frequentato la facoltà di scienze sociali a Trento, dove Margherita si laurea per i voti nel 69, discutendo in un list di Marx non ancora tradotto in italiano. Insieme hanno iniziato la militanza politica. Caramani e papà, siamo scodati, c'è cascato. Ora stiamo riposandoci al mare, santi bacione, Margherita. Ha da poco terminato l'università quando scrive alla mamma di Renato. Sono molto felice di aver scelto Renato come compagno della mia vita, costruire in modo nuovo e solido un rapporto che va oltre l'odio a servizio degli sfruttati e quindi al servizio del popolo. La vacanza è breve, la mamma di Renato. Margherita scrive alla madre. Questa società ha estremo bisogno di essere trasformata da un profondo processo rivoluzionario. Tutto ciò che è possibile fare per combattere questo sistema è dovere farlo. Perché questo, credo, sia il senso profondo della nostra vita. La vita è una cosa troppo importante per stendere la mano. Nell'ottobre e settanta nasce la Brigata Rossa al singolare, azioni dimostrative, poco alle macchine dei capi agendari. Mordi e fuggi, niente resterà impunito, colpisci da uno per lutarne scelto. A Milano, per marzo settantadue, il primo sequestro lato dell'Ubrigata Rossa. Hidalgo Machiarini, dirigente Fitzsimmons, è catturato davanti allo stabilimento, fotografato con due pistole puntato un cartello al collo. Gli operai applaudono. Per Margherita e Renato del settantadue, è l'anno della scelta della franestinità e del trasferimento a Torino. Presto si rendono conto che è necessario andare oltre la fabbrica, bisogna colpire il potere politico, il potere del sistema. Brigate rosse, portare l'attacco al cuore dello Stato, trasformare la crisi di regime in lotta armata per il comunismo. E' Mar a preparare il bracco russo che compare dietro i giudici armati o sossi, rinchiuso nell'aprile settantaduatro in una prigione del corpo. Nei trentacicco giorni del sequestro esplodono contraddizioni tra magistratura e polizia. Il dottor Malette racconta inchieste insabbiate, processi truccati tra fischi di armi. La richiesta dei brigatissimi per alcuni prigionieri politici è bloccata all'ultimo minuto, ma per il rapitorio è comunque una vittoria e il giudice torna libero. L'8 settembre Renato viene arrestato con Alberto Franceschino, ma non si perde l'anima. Cari genitori, vi scrivo per dirvi che non dovete preoccuparvi troppo per me. Ora tocca a me e ai tanti compagni che vogliono combattere questo potere borghese ormai marcio per rimare la volta. Non pensate che io sia l'incosciente. Grazie a voi sono cresciuta, istruita, intelligente e soprattutto forte e la forza in questo momento me la sento tutta. È giusto il sacrosanto quello che sto facendo. La storia mi dà ragione come la data dell'esistenza nel 45. Ma voi direte, sono questi i mezzi da usare? Credete, non ce ne sono altri. Questo stato di polizia si regge sulla forza delle armi e chi lo vuol combattere si deve mettere sullo stesso piano. È Mara nel febbraio del 75 a guidare l'evasione di Renato dal carcere di Casano Monservato. Il 4 giugno il sequestro per autofinanziamento dell'industriale grancia fila liscia. Ma la mattia dopo Margherita e il compagno per con lei con la cascina spiotta si accorrono troppo tardi dell'arrivo dei carabinieri. A colpi di arma da fuoco si aprono un barco, vengono bloccati. L'uomo scompare tra i cespugni, Mara si arrende. È inginocchiata sul prato con le braccia alzate e levemente ferita quando un colpo, sparato a bruciabello, la uccide. I brigatisti denunciano l'esecuzione a freddo. La docchia conferma. È Renato a scrivere il comunicato. Comandante politico-militare di Colonna, Mara ha saputo guidare vittoriosamente alcune tra le più importanti azioni dell'organizzazione. Che mille braccia si pretendano per raccogliere il suo fucine. Noi, come ultimo saluto, le diciamo, Mara ha un fiore sbocciato e questo fiore di libertà. Le brigate rosse continueranno a coltivarlo fino alla vittoria, lotta armata per il comunismo. Anna Maria Valentini. È 6 maggio 1975 e Anna Maria e tre i suoi compagni sono in attesa, in una strada di un quartiere signorile di Roma. Da solo 11 di sera il giudice di Gennaro scende dalla macchina e si trova una pistola puntata contro. A effettuare il sequestro è il nucleo armato, 29 ottobre. Il 29 ottobre è una ricorrenza dolorosa per Anna Maria, scritta con il sangue del fratello Lusa, uno dei fondatori di Gennaro. L'organizzazione nasce nel 74 e si presenta con un'azione dimostrativa davanti al precarcio. Un testo registrato, diffuso tramite atto dall'anti che si autodistrugono dopo la trasmissione. Compagni e compagni detenuti nel carcere, questo messaggio è rivolto a tutti voi dai nuclei armati proletari che si sono costituiti in clandestinità all'esterno dei carceri per continuare la lotta dei detenuti contro i ragazzi dello Stato borghese e della sua giustizia. Contro lo Stato dei palloni del suo governo, rivolto al generale delle carceri. In alto, prendono il simbolo di una brigata partigiana a regalare il libro e un tipografo milanese. Il 29 ottobre Luca è ucciso da un carabiniere dotato un esplode di una banca insieme a un altro notpista, Giuseppe Romero. Anna Maria è sconvolta ma non perde la razionalità. Effetto del riconoscimento nell'auditorio di Firenze e a un giornalista risponde, dica questo di Luca che è morto da comunista che da quando aveva 16 anni ha lottato da comunista. L'ultimo saluto è una promessa di lotta, avanti sempre fino alla vittoria. Anna Maria è tre fondatori del nucleo 29 ottobre, nei primi mesi del 75 lascia a Firenze la famiglia e l'università, va a Roma, soffre la lottanza della madre malata, appena può fuori in ospedale. Di Gennaro è considerato un magistrato democratico impegnato nella riforma carcerale, per in alto è un servo dello Stato che mira a indebolire le lotte delle carceri. Durante il sequestro viene narcotizzato e trasferito da una base a un'altra. Di quei momenti drammatici servo un ricordo piacente. Durante il trasporto una mano, la mano di una donna mi prendeva delicatamente il polso per constatare se fossi ancora vivo. In quei gesti semplici avversi una preoccupazione sincera. La mano è di Luisa, nome di battaglia di Anna Maria. Il 10 maggio il comunicato dei Natti ha detto al giornale radio che Di Gennaro torna in libertà. Definerà i suoi rapitori persone molto intelligenti e preparate, gente straordinariamente informata e coraggiosa. Nei mesi successivi a Roma vengono scoperte alcune basi dei Natti. Indiello ai ponti i poliziotti entrano quando la casa è nuova. Dopo la perquisizione sei uomini rimangono nell'appartamento. È l'una di notte e la macchina si accosta a marciapiede. Anna Maria salutatone a Nicola e il suo compagno arriva su. Infila la chiave nella serratura. La porta si apre da sola. È un attimo come un capogiro, una figura del buio, un'arma che sbuca dall'interno. Neveva il tempo di decidere se prendere la pistola nella polsetta. Uno sparo dritto sul volto. Dalla polsia arrivano lezioni confuse. La comunicazione giudiziaria contro il poliziotto non ha seguito. Nel 76 in app feriscono il vicebrigadiero che ha ucciso Anna Maria, il magistrato che ha avalato la falsa lezione dei fatti, il vicequestore al forzo noce. Alla figura di Anna Maria si ispira Vasco Prattolini nella sua ultima opera. Noi, della nostra creatura, non possiamo che assaporarne la memoria. È miele e fiele. Chiamiamola, d'ora in avanti, col suo nome di battaglia, Viola, una persona che non abbiamo conosciuto e che ci chiede solo pietà, pietà e amore. Lei, assassinata, che il mondo vorrebbe assassina. Non farmi tenere che anche tu lo creda. Barbara Azzarone. È il 6 marzo del 79, un silenzio tutto schiaccio al centro di Bologna. Battiere, Fiori, una corona. Barbara Azzarone, 29 anni, militante di prima linea, freddata in un bar insieme a Matteo Paggeggi, vent'anni, operaio Fiat. 2000 persone partecipano al funerale, sfidano i controlli, dalla 500 l'altoparlante diffonde l'inno di potere operaio e le parole di Volantino, firmato il movimento. Il movimento di guerriglia è una componente del movimento rivoluzionario. Per noi, compagni di Bologna, Barbara non era per nulla clandestina. La conoscevamo e la stimavamo tutti. Il corteo è silenzioso. Dall'alto di un palazzo un fotografo riprende i partecipanti. L'ordine è del partito comunista. Cerchi disegnati intorno ai volti, crecce, come bersagli. Barbara Azzarone è solare, allegra, ama l'astrologia del serato nelle osterie, ha un figlio da libero. A vent'anni ha già una bambina, nata durante un breve matrimonio. Nel 70 incontra Morisso, un rapporto profondo di un esposo. Militano il potere operaio, frequentano le sedi dell'autonomia. Nel marzo 77 sono nel movimento, ma anche nelle brigate comuniste, l'area illegale della rivista Rosso. Il pomeriggio dell'11 marzo Bologna è un capo di battaglia. Un carabiniere ha ucciso Francesco Lorusso, militante di lotta continua. La sollevazione prosegue per due giorni. Barbara è l'università difesa da lugar di cate. Domenica, 13 marzo, la città si sveglia a rumore e inquietanze dei capi armati. Sfondano le difese, poi l'irruzione alla radice, rastrellamenti, cento fermi con attuo arresti. A settembre Barbara partecipa al convegno contro la repressione come militante delle formazioni comuniste e combattenti. Fino al 78 fa una doppia vita. È maestra in un asilo nidio e nelle lotte dei lavoratori nel movimento. Entra in clandestinità a peri tempo per sottrarsi a un dato di cattura. Lacerazioni, lacrime, la necessità di lasciare sua figlia e la madre. Milta, in prima linea, partecipa a variazioni, anche a femminile, contro una sorvegliante nel caccio delle nuove, contro un ambulatorio di cucchiai d'oro, i ginecologi divenuti rischi con gli aborti illegali. La notte scorre tra chiacchiere e caffè. Le carte insistono sulla mia morte, ripete Barbara. Lidiana la tranquillizza e lo regala a Maglione. All'alba, il saluto. Baza, frega il treno per Torino. Mancano due giorni all'azione. Dice a Morisse, se ne dovesse succedere qualcosa, pensa a mia figlia. Torino, è città di lotte, città comunista. Prima linea è radicata dalle fabbriche, come le Brigate Rosse, per il PC. È inaccettabile. Nel febbraio 79 lancia un questionario antiterrorismo. Sei domande, la cui te invita a denunciare in modo anonimo il vicino di casa e il compagno di lavoro sulla base del sospetto. 100.000 copie stampate, 35 risposte alla quinta domanda. Prima linea decide di agire. Scrive. Il gruppo di fuoco era in quella zona per compiere un attacco contro Michele Zaffina, attivista del PC e presidente del consiglio di quartiere. Costunzi è distinto a Torino, per alcune azioni tipicamente poliziesche nei confronti del movimento di lotta proletario, delle sue avantiate e consapevoli. Barbara e Matteo sono in un bar quando gli rompe la polizia. Lei cade subito e ferita a morte, nonostante riporti i proietti. Lui ingaggia un corpo a corpo, controlla, colpito da sei proietti. È il 28 febbraio 79. Scrive prima linea. Contro le due armate dello Stato c'è una sola parola, guerra. Il proletariato è la nostra organizzazione non dimentica che qui le mani impugnino le armi dei compagni Carlo e Charlie caduti per il comunismo. che le mani impugnino le anate in una monna. Chi è alcazzate due donne delle altre persone molto più amiche di correttante. Maria, un altro po' di modi a usовать i colleghi conti. Maria. Maria! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche perché non c'era nulla da dire. Ciascuno con il suo proprio lamento. Verso un dove? Che neppure noi conosciamo. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 di classe, ma anche di popoli e nazioni all'interno degli Stati Uniti, era una questione fondamentale per il movimento da affrontare, in particolare era una questione fondamentale da affrontare per il movimento contro la guerra, che era un movimento in gran parte basato sugli studenti e in gran parte 90% bianco, cosa che gli Stati Uniti non lo sono. Allora, questo poi direi che al principio, almeno al suo principio, era un movimento pacifista, era un movimento che aveva un obiettivo molto limitato, che era porre a termine la guerra e riportare i soldati americani a casa. Nel tempo questo movimento si è trasformato, si è trasformato e ha iniziato a chiedersi che cos'erano gli Stati Uniti e a sviluppare una critica strutturale degli Stati Uniti stessi e ha cominciato a capire, a vedere, che questa guerra che noi vedevamo come uno sbaglio all'inizio era assolutamente strutturale a come gli Stati Uniti volevano gestire il loro potere nel mondo e questa guerra aveva degli scopi talmente importanti nella loro visione che anche se quando la stavano chiaramente perdendo militarmente e anche culturalmente non potevano ritirarsi. Questo secondo me è avvenuto in un anno molto particolare, questo inizio di questa trasformazione per noi come movimento e quell'anno è stato il 68, come in Europa anche il 68 negli Stati Uniti è stato determinante. Tre esempi perché il 68 negli Stati Uniti ha avuto questo impatto molto profondo, almeno su di noi che eravamo parte del movimento, uno sono stato quello che hanno fatto i vietnamiti stessi, perché se vi ricordate, per quelli che hanno una certa età, il febbraio del 68 ci siamo tutti svegliati e i vietnamiti avevano durante il festival di tè occupato ogni parte del Vietnam, avevano in qualche modo penetrato le città che si erano detto dove gli Stati Uniti avevano la loro base di potere, questo siete rivelato di non essere completamente vero e hanno proprio dimostrato che il paese era in qualche modo loro. Poi sì, si sono ritirati, la vittoria finale è solo arrivata nel 75, ma non importa perché nel 68 la narrazione che veniva data ogni sera sulla tv americana di come stava andando questa guerra è stata assolutamente sconfitta da quest'azione dei vietnamiti. Questo anche per noi ha sconfitto la narrazione che avevamo delle ragioni per cui eravamo contro la guerra, non era solo una questione di essere contro la guerra, ma ha iniziato tutto un processo per cui da essere contro la guerra non siamo diventati non solo contro la guerra, ma contro il ruolo degli Stati Uniti nel mondo, pro-vietnamita, che è stata una grossa lotta cambiare da una posizione neutrale, siamo solo contro la guerra a una posizione, no, siamo a favore dei vietnamiti e capiamo le ragioni e questo cambiamento di essere a favore dei vietnamiti è stato discusso in questa chiave il fatto che bisognava riconoscere il diritto dei popoli all'autodeterminazione che è un vecchio principio del movimento socialista e comunista che per noi non avevamo iniziato da quel punto di vista. Perciò questa è stata una cosa che è successa nel 68 e ha iniziato questo percorso di far cambiamento della nostra politica. L'altra cosa che è successa nel 68, che è stata importante, è stato che il fatto di Martin Luther King è stato assassinato. Questa è una persona con cui non avevamo necessariamente un grande accordo politico, ma era una persona che rappresentava la sua gente, che aveva preso una posizione netta contro la guerra in Vietnam, che iniziava a parlare nei suoi ultimi discorsi anche della necessità forse di affrontare la questione del socialismo perché il capitalismo americano secondo lui non funzionava più e era anche un pacifista. E allora la questione per noi è stata, ma sia il governo in qualche modo aveva un ruolo nella sua morte che significava di che cos'era la democrazia all'interno degli Stati Uniti che si assassinavano persone come lui. L'altra cosa che ci ha veramente fatto pensare è stato che in reazione alla sua morte si sono ripelate 300 città all'interno degli Stati Uniti e anche questo è stata una denuncia di un profondo malessere che esisteva all'interno degli Stati Uniti, chiaramente non esisteva nelle comunità bianche, ma esisteva nelle comunità afroamericane e questa era una cosa che noi come movimento non potevamo ignorare. La terza cosa che direi che è successa nel 68 è che le Panterre Nere sono diventate un partito nazionale da un piccolo gruppo in California si sono allargate a tutto il paese. Due cose che direi delle Panterre Nere che per noi sono state significative, una è stata la posizione contro la guerra, parte del loro programma era che nessun uomo giovane afroamericano poteva lottare nell'esercito americano, l'unico esercito in cui si poteva arruolare era l'esercito di liberazione afroamericana. Quell'esercito non esisteva, quello non era il punto, il punto era che non si poteva arruolare nell'esercito americano, era una posizione netta di non riconoscimento del ruolo del governo americano e delle sue avventure. La seconda cosa che secondo me per noi è stata molto importante dal punto di vista loro è stata la questione del diritto all'autodifesa. Questa è una cosa molto dibattuta della Costituzione americana, il fatto che i cittadini americani possono essere armati non è esattamente vero come si racconta la storia, perché la ragione che i padri costituenti hanno incluso questa clausola nella Costituzione è stata per via della schiavitù. Ogni bianco poteva essere armato perché sotto la schiavitù se trovava un africano che era scappato, che cercava di evadere la sua condizione, ogni bianco poteva essere armato per riportare la persona, quell'essere umano che aveva tentato la via della libertà al suo padrone. Perciò il partito delle pantare nere ha preso tutta questa storia, tutti la capiscono all'interno degli Stati Uniti ma in particolare la capiscono gli afroamericani e l'ha invertita a 180 gradi dicendo noi abbiamo il diritto ad autodifenderci e lo faremo. Infatti tutte quelle fotografie che possono sembrare anche un po' kitsch di loro armati, era di cercare di propagare questo principio che anche gli afroamericani all'interno degli Stati Uniti avevano quel diritto come sancito dalla Costituzione. Anche questo ha aperto chiaramente un dibattito in un movimento che si considerava pacifista. Chiaramente negli prossimi due o tre anni c'è stato molte discussioni al fatto che come un movimento bianco non potevamo pensare di agire e continuare a agire solo in quel modo ma che si dovevano creare legami con gli altri movimenti che stavano sviluppando in quegli anni degli Stati Uniti. E quali erano quei movimenti? Erano in particolare movimenti di liberazione lungo quelle linee che ho detto nazionali i nativi, i portoricani, i messicani e gli afroamericani. E questo periodo di avvicinamento è stato osservato con molta attenzione dal governo americano perché in un periodo di grande crisi con una guerra che andava sempre peggio a 6.000 km dagli Stati Uniti francamente il governo ha detto che non si poteva permettere l'apertura di un secondo fronte, il fronte interno e la possibilità che questi movimenti si coalizzassero politicamente e iniziassero ad agire in uniti era una cosa che loro non potevano permettersi in quel momento. Allora, essendo gli Stati Uniti molto concreti, hanno deciso di dichiarare una guerra interna a questi movimenti, non tanto differenti da quello che hanno fatto in altri paesi del mondo. Questa guerra interna si chiamava Cointelpro, era un programma gestito dal Ministero di Grazia e Giustizia in cui c'erano delle squadre speciali create, si chiamavano, già da quei tempi, parliamo del 1969-70, le squadre antiterrorismo che erano metà FBI, che è la Polizia Politica Nazionale e metà Polizia Locale delle grosse città o dove questo programma esisteva. Questo programma aveva come obiettivo l'eliminazione fisica e politica del movimento. In certi casi si sono limitati all'eliminazione politica in alcuni casi hanno anche incluso l'eliminazione fisica delle persone che loro consideravano particolarmente pericolose. Molte di queste persone che loro hanno considerato particolarmente pericolose erano quadri del Partito delle Panterre Nere. In quel periodo sono state arrestate 6.000 iscritti al Partito delle Panterre Nere, oltre all'eliminazione fisica di alcuni dei loro quadri. Voglio farvi capire una cosa che gli obiettivi di questo movimento includevano i cattolici di sinistra. I cattolici di sinistra sono un gruppo di preti e di suore che agiscono su due fronti in particolare. Uno è la questione delle armi contro la militarizzazione, perciò periodicamente entrano nelle basi militari con i martelli cercano di distruggere un missile. L'altra cosa su cui si occupano molto è la tortura, perché negli Stati Uniti c'è questa scuola che si chiama la scuola delle Americas, dove gli Stati Uniti portano tutti i rappresentanti delle forze di polizia, specialmente latino-americane, e gli insegnano come torturare la gente. Perciò i cattolici hanno, c'è stato questo padre molto importante, il padre Bourgeois, che ha sempre questa campagna, ha aiutato dalla sinistra cattolica per chiudere questa scuola. Perciò non era solo i rivoluzionari, nel senso delle persone che agivano illegalmente, lo dico in vervolente, ma anche in cui gli avevano i cattolici. Come rispondere a questa repressione? È stato il nostro dibattito nel movimento. Una posizione diceva che bisognava solo agire pubblicamente, allargare l'opposizione pubblica a questa repressione con manifestazioni, conferenze come quella che è successa a Bologna, petizioni, anche presentazioni di liste. Un'altra posizione ha detto che tutto questo va bene, però bisogna creare una rete clandestina che si può opporre anche militarmente a certi di queste supprusi da parte del governo americano. In questo il ruolo della polizia era fondamentale. Poi magari ne possiamo parlare dopo perché include quello che sta accadendo oggi con i giovani afroamericani negli Stati Uniti e la polizia. Però la questione del ruolo della polizia all'interno di certe comunità era una cosa molto importante in questo periodo, perciò dalla polizia e i poliziotti venivano considerati un obiettivo militare legittimo da questa rete. L'altra cosa che questa rete proponeva era delle azioni politiche e dimostrative che avrebbero in qualche modo fatto palese il fatto che questa rete esisteva ma anche la capacità di resistere a questa repressione. Alla fine poi di tutto un percorso io mi sono trovata d'accordo con questa posizione e con altre persone ho partecipato in qualche modo a questa rete. Questa rete io ne l'ho scritto, gli do il suo nome storico che è The Black Liberation Army perché questa posizione è una posizione che è emersa dal movimento rivoluzionario afroamericano. Il mio reato principale è stato la liberazione di questa donna, Sata Shakur, perché la rete e il movimento pubblico ha deciso di liberare questa donna perché il governo l'accusava di essere il capo della rete. Era conveniente per il governo creare questa persona che era responsabile per tutto. da parte nostra, una volta che il governo l'aveva elevata a quella posizione, era anche stata processata nove volte, otto volte le giuria l'hanno trovata innocente, la nona volta il governo ha detto processiamo in una contea di bianchi con una giuria tutta bianca, quella volta è stata trovata colpevole e gli hanno dato una condanna di 120 anni. Allora, da parte del movimento è stata presa la decisione di andarla liberare perché in qualche modo era una risposta a questo programma perché lei era forse la vittima numero uno, avevano creato la figura, avevano creato i reati, l'avevano condannata e doveva morire in carcere. E questo è stato fatto nel 79, lei dall'84 viva Cuba, è diventata una cittadina cubana, ha avuto asilo politico dal governo di Cuba e questo è stato il mio reato, volevo aggiungere un'ultima cosa perché molte persone mi chiedono ma tu eri un membro del partito delle Pantere Nere? No, non è possibile, il partito delle Pantere Nere è un'espressione...